Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, proprio sul Matroneo, accanto al grande mosaico della Madonna delle Grazie. Oggi qui per ricordarvi il grande dolore che aveva Padre Pio per le sue stimmate, per i suoi malanni, ma anche per questo grande desiderio di morire. Ce lo raccontano alcuni suoi figli spirituali e che, ecco, che Padre Pio è stato confitto in croce tutta la vita, lo hanno costatato tutti coloro che hanno avuto la grazia di salire qui a San Giovanni Rotondo e di poterlo anche incontrare. Ma alcuni, alcuni figli spirituali, quelli più intimi, hanno conosciuto le particolarità della sua grande sofferenza. Infatti, Pietro Cugino, e vado sul virgolettato, volevo conoscere qualcosa sulla sofferenza che gli causavano le stimmate. E un giorno, subito dopo una confessione che feci nella prima cella a destra uscendo dal coro, osai entrare nell'argomento. Però vogli partire da lontano, facendo riferimento ad altri santi, proprio per non offendere la sua sensibilità. Allora gli chiesi, Padre, quando il serafico Padre San Francesco e Santa Caterina da Siena, Santa Veronica Giuliani hanno ricevuto le stimmate, hanno sentito il dolore come Gesù quando lo hanno inchiodato. E Padre Pio rispose, eh sì, figlio mio. Ma passato quel momento, poi tutto si è addolcito, ha continuato Pietro Cugino, vero? E Padre Pio rispose, beh, figlio mio, è tutta una crocifissione, è tutta una passione continua. A volte, sempre Pietro che parla, Padre Pio si stendeva sul letto qualche istante e diceva, io mi sento male dalla punta dei piedi alla cima dei capelli. E verso la fine della vita, proprio le piaghe che gli facevano, che lo facevano tanto soffrire, erano quelle dei piedi, spesso gonfi oltre misura. E a volte a sera diceva, vorrei mettere sul pavimento la faccia anziché i piedi, tanto che mi bruciano. E quando i figli spirituali più vicini si accorsero proprio che Padre Pio stava per lasciare tutti e quindi si preoccupavano del suo stato di salute, ad esempio a Bruno Pavone che gli chiedeva come stesse, lui rispose, siamo alla fine del peggio, cioè un dolore senza limiti. O ancora, allo stesso figlio spirituale disse, di alla Madonna addolorata che mi venga a prendere. Pietro Cugino che invece aveva intuito evidenti intizi di questo suo grande desiderio di morire, una volta gli rivolse una preghiera, ma padre perché non chiedete al Signore di stare ancora un po' di tempo con noi? E Padre Pio rispose, figlio mio, io ho dato tutto, non ho più sangue nelle vene.